Ragazzi volevo dirvi semplicemente questo Se questi gameplay vi piacciono Spolliciate dappertutto E io li riporterò Ne ho già registrati alcuni Che vorrei farvi vedere E soprattutto ascoltate bene l'audio E ditemi se è migliore di quello di prima Perché ho utilizzato il nuovo microfono Per la prima volta in un gameplay Ciao e vi lascio al video Mi raccomando modificato la intro Spolliciate e Ciao vi lascio al video Bella a tutti ragazzi Qui è Bazo che vi parla E siamo di nuovo Non su Minecraft Siamo per un paio di gameplay Che vedrete a lungo andare nel tempo Siamo su dei giochi che Non hanno una grafica eccellente C'è un po' che però le sto dicendo I giochi da smartphone Ed eccovi qua al primo Questo si chiama Burger Credo che devi fare gli hamburger C'è una persona Vagamente tratta dai manga O dagli anime giapponesi Si vede Puoi scaricarla anche sul tuo smartphone Non la vuoi? Non la vuoi? Modalità carriera Su questi giochi ragazzi Non dovrebbe come laggarmi il computer A meno che non sono i migliori nuovi giochi della storia Trioncino Si Si Mamma mia C'è Ma va là Guarda Guarda C'è Pure il nuovo Il nuovo McDonald Formiamo Bazo Conald Aha 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 C'è Quelli del McDonald Sono più lenti di me Mega panino Questo qua Ah si 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 Più veloce del computer Allora Questo 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 E questo Ok Giusto Poi devi fare Questo No No Questo 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 E questo Ok Poi devi fare Questo 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 E questo C'è ragazzi è una cosa troppo bella Tu metti il fondo del panino Poi metti la lattuga Questo è il vegetariano Questo è il vegetariano con Con l'aggiunta del ketchup Anche se non ho capito perché se sbagli ti cancella il panino Ho guadagnato 71 milioni di dollari Cioè ma cos'è? Se tu guadagni 71 milioni di dollari Ok Ok Hai questo Questo e questo Cioè fatto Ok Questo 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 E questo Ok 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 Poi fondo del panino Ketchup Hamburger E Chiusura del panino Apertura Insalata Hamburger Chiusura 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 Questo è il vegetariano Vai di vegetariano Vai di vegetariano con ketchup sopra però Alla lattuga Vai di ketchup Si chiama proprio ketchup questo Questo è l'hamburger normalissimo Poi Questo Ketchup È il vegetariano col ketchup sotto La lattuga Di nuovo un vegetariano Siamo già a posto E poi manca Quest'ultimo Ed è finito Ah no Ce ne manca un altro Cavolo Non si è riuscita a preparare l'ultimo No Per due ingredienti Undici panini No 70 109 milioni Ho guadagnato No 72 milioni Scusate Patatine fritte Cosa cambia? Boh Ragazzi lo scopriremo In questo nuovo gameplay Patatine fritte Fatto Ok Sì Sì Devi essere velocissimo a fare ste robe Devi fare boom Boom No boom 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 Ok Ok Vabbè Tac Tac Un vegetariano più le patatine Quindi non è vegetariano Sto tizio Poi vai No Ok Questo 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 Ok Patatine Poi tu di sicuro devi far così Così Scusate se in questo gameplay Dirò molte volte la parola così Però Perché Qua Continua a fare ste cose qua Iper veloce Cioè Quelli del McDonald's Non hanno capito niente In questo gioco la precisione nel cliccare i tasti è tutto Eh no non ce la faccio stavolta Non ce l'ho fatta fare un panino intero Però C'è È l'idea del gioco che Che è bello Perché un gioco si valuta anche dall'idea Si Lo sapevo già Ci scommettevo Che è sta roba Cioè ti pare che ingrassi comunque Non è che perché se prendi Cose Mezze vegetariane Con ketchup Però ci ha messo il ketchup Quindi tanto vegetariano Non è Questo Questo e questo Ok No questo 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 Ah le patatine Poi devi mettere Questo qua Questo qua E questo qua Cioè sono troppo un giugno Patatine Hamburger normale Ok Ma non andava più Avevo finito i panini Scusate ho diminuito I dpi del mouse Cioè la velocità con cui posso muovere il mouse Perché se no va a finire che Sbagliavo tutto Ok 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 Devo aumentare i dpi Ok Uno Due Tre Quattro Vai Uno Due Tre Chiusura del panino Patatine Così ingrassi Anche te Un vegetariano Patatine Un ketchup Un hamburger Un hamburger E il panino Patatine Sto gioco mi ha preso un sacco Patatine Cioè a quanti giorni Verrò licenziato Da questo lavoro Perché probabilmente Verrai anche licenziato No Non c'è un coso Massimo C'è un nome di panino Massimo Fini del servizio No 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 Posso uscire Ok ragazzi Per questo gameplay Credo che sia tutto Ho già scaricato Altri giochi Che probabilmente Vedete tipo Corre con Rudolf Lo vedrete probabilmente Nel prossimo gameplay Adesso non so più Dove è finito Corre con Rudolf Eccolo qua Lo vedrete nel prossimo gameplay Vedrete anche Prima o poi Il gameplay Della nonnetta Che corre Fuori dal ricovero Perché è impazzita Probabilmente Comunque Per questa volta è tutto Ci vediamo alla prossima E credo che farò ancora Gameplay su questo Il prossimo gameplay Sarà ancora su questo Così facciamo una piccola pausa Su Tra la Minecraft E Ciao